Ma insomma, che cazzo vuoi? So venuto a dire che dovete passare tutti al freestyle perché sfruttate solo il 30% del trotto alla sotta Ikea. Sfruttate solo il 30% del trotto alla sotta Ikea. Vada sì! Il 30%. Oh sai che è quel bucho da te? Il bucho che fanno i freestyle quando vengono Ikea. Freestyle! 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 Questa è Ikea! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!